Salve a tutti e benvenuti alla presentazione che parla di soluzioni per controllo motore ad alta tensione. Mi chiamo Albert Boscarato e sono responsabile del laboratorio tecnico applicativo che si occupa della circuiteria di potenza per controllo motore. Questa presentazione è volta ad introdurre e spiegare in maniera semplice la proposta ST, quindi componenti e tool, per quanto riguarda il controllo motore ad alta tensione con potenze in gioco attorno ai 10 kilowatt. Rispondere alla domanda cosa è un controllo motore è a prima vista piuttosto facile, tuttavia la risposta a una domanda del genere dipende dalla conoscenza tecnica di ognuno di noi e dal livello di dettaglio che vogliamo raggiungere. Per farla semplice, un azionamento a frequenza variabile, in sigla VFD o Variable Frequency Drive in inglese, è in sostanza un convertitore ACAC, converte energia elettrica a frequenza e tensione fissa in frequenza e tensione variabile. L'obiettivo è quello di controllare e far girare il motore sempre nel punto ottimale, a prescindere dalla velocità di marcia e dalla potenza applicata. In questo modo sia il motore sia l'applicazione a cui è collegato il motore funzioneranno alla massima efficienza consentita, o se volete con il massimo risparmio energetico consentito. In questo diagramma blocchi semplificato troviamo a sinistra l'ingresso AC a tensione e frequenza fissi e a destra invece l'uscita AC con tensione e frequenza variabile. I blocchi rimanenti compongono il controllo motore vero e proprio. In questa presentazione ci soffermeremo sui blocchi evidenziati in blu chiaro, vale a dire il raddrizzatore a ponte, il freno, i gate driver e gli AGBT che compongono la parte di potenza. Per meglio comprendere l'offerta ST, i componenti di potenza sono stati suddivisi in tre colonne. A sinistra troviamo componenti che coprono potenze che vanno da pochi watt fino a 5 kilowatt circa. Ne fanno parte le soluzioni a discreti, le soluzioni integrate della famiglia ST-spin e i gate drivers. Nella colonna di mezzo trovano collocamento i moduli di potenza intelligenti SLIM che contengono al loro interno i gate drivers, i transistor che possono essere dei GBT o dei MOSFET, le circuiterie di protezione e volendo anche un termistore. I moduli SLIM sono perfetti per il pilotaggio di motori trifase industriali con potenze che partono da pochi watt per arrivare fino a qualche kilowatt. Infine, nella colonna di destra troviamo i moduli di potenza ACEPAC, idonei per applicazioni con tensioni di ingresso trifase e motori con potenze che vanno dai pochi kilowatt fino ad arrivare a 20 kilowatt circa. Parliamo ora dei moduli di potenza ACEPAC. Sono disponibili in due contenitori, con pedinature che possono essere saldate, opzione solder pin o pressati direttamente nel footprint sul circuito stampato, opzione press-fit. I moduli di potenza ACEPAC contengono al loro interno i GBT da 650 o 1200 volt, protetti contro il cortocircuito e provvisti di diodo di ricircolo. Gli i GBT sono disponibili in diversità di bicorrente che vanno da un minimo di 15 A a un massimo di 75 A. A seconda della configurazione di richiesta, all'interno del modulo ACEPAC, possono essere presenti anche un radizzatore trifase a ponte e una circuiteria di frenatura composta da una GBT e un diodo. Non manca un trimestore NTC montato vicino al tragizio di potenza per il monitoraggio accurato della temperatura del modulo. Diamo ora un'occhiata a come sono costruiti i moduli di potenza ACEPAC. La struttura di base è evidenziata a sinistra, formata da un DBC, o Direct Bonded Copper Substrate in inglese, dove sono collocati i componenti in silicio. Al DBC sono saldati dei pedini opportunamente dimensionati e in grado di far passare grosse correnti. Il tutto è infine rinchiuso in un solido contenitore plastico. Nella figura centrale è possibile notare il lato superiore del DBC, dove è ben visibile il circuito elettrico nel rame e i dai dei transistri dei diodi. Il DBC ha un'eccellente conduttività termica, così da garantire un'ottimale dissipazione del calore. I componenti sono interamente ricoperti da un gelno conduttivo che li protegge dall'ambiente esterno. A destra è infine possibile vedere il modulo ACEPAC fissato su una letra di raffreddamento. Il processo è semplificato grazie a due morsetti in metallo preinstallati nella plastica del contenitore. I moduli di potenza ACEPAC sono progettati e qualificati per un uso industriale, garantendo un elevato standard di qualità e di affidabilità. I moduli di potenza ACEPAC sono disponibili in due topologie differenti. La prima, chiamata SIXPAC, prevede un classico inverter trifase composto da 6 GBT più un termistore NTC. La seconda, invece, chiamata CIB o Converter Inverter Brake in inglese, oltre all'inverter e alla NTC, prevede un ulteriore raddrizzatore trifase a ponte e uno stadio di frenatura composto da una GBT più un diodo. Per testare i prodotti e il software ST, mettiamo a disposizione dei clienti delle bordi di valutazione, come questa, adatta per testare i moduli di potenza ACEPAC2 in configurazione CIB da 1200V 35A. La scheda è inoltre provvista di gate driver STGAP1 con isolamento galvanico ed è controllata da un micro STM32F303 con il suo interno un Cortex M4. Prima ancora di iniziare i test nel laboratorio, è possibile simulare i comportamenti dei componenti ST a livello applicativo, usando un tool chiamato PowerStudio, vale a dire un simulatore termoelettrico per inverte trifase che prevedono l'utilizzo di moduli di potenza ACEPAC o SLEE. PowerStudio è disponibile e si può scaricare gratuitamente sul sito ST seguendo il link st.com PowerStudio. I gate driver di isolamento galvanico STGAP2 possono essere provati grazie a delle semplici evaluation board nelle quali è possibile montare transizioni di potenza sia in TO220 sia in TO247. Grazie a tutti per aver partecipato a questa presentazione. Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete rivolgervi ai nostri venditori o file locali. Buona giornata!